ciao a tutti ed eccoci qui in un nuovo video di pasqua oggi non andremo ad aprire il pasqualone delle lol ma l'uovo di pasqua delle lol quindi due cose già abbiamo preso delle lol andiamo ad aprire qui andiamo ad aprire il nodo giro ok cerchiamo questo ok andiamo a romperlo allora qui abbiamo aspetta che non c'è però è rimasto incastrato apriamo un attimo un'altra ah finalmente ecco abbiamo un braccialetto delle lol simile a quello che abbiamo trovato qui ma che è solo un braccialetto e ha dei ciondolini molto carini e non è un elastico di certo come questi ok direi che per oggi abbastanza e al prossimo video di pasqua ciao 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 ciao